Qual è il costo di tutto questo, di vivere senza strategie, senza formazione, senza aggiornarsi, senza avere le competenze corrette? Qual è la nostra salute, le nostre relazioni, la nostra sicurezza economica, nostra e della nostra famiglia? E allora se ti riconosci in questa situazione, se vuoi uscire da questa situazione, clicca sul link che trovi in basso, fissa la tua sessione strategica gratuita se ci sono ancora i posti disponibili, altrimenti fissa semplicemente una chiamata informativa di pochi minuti in cui potremo scambiare due parole e capire se c'è un qualcosa, un consiglio che posso darti e se possiamo esserti utile. Perché? Perché una volta che facciamo un'analisi della situazione noi possiamo offrirti il nostro supporto. Siamo un'associazione culturale, quindi cerchiamo di essere al fianco delle persone e sicuramente non ci mettiamo al livello di quei guru che costano tantissimi soldi e alla fine ti lasciano in una condizione quasi come quando avevi iniziato il corso di formazione, eccetera, eccetera. Noi non lavoriamo così, facciamo un affiancamento, ci mettiamo alla faccia e siamo a fianco delle persone. Non fai il video, fai il videocorso, fai la formazione e poi sono partitoi. Ci sono anche dei pacchetti in cui noi garantiamo il risultato. Vuoi saperne di più? Clicca sul link, fai una chiamata, fai la sessione strategica se c'è il posto e noi ci vediamo dall'altra parte. Ciao! Grazie a tutti!